Bella a tutti mozzarelloni, sonoci per questo nuovissimo video vlog stiamo andando a mangiare la pizza insieme ai compagni di classe e la cena dell'ultimo giorno di scuola della seconda superiore e vi racconterò un po' la mia serata intanto come potete vedermi sono vestita abbastanza elegante con sta camicia tattica oppure l'orologio della Braille, mezzo rotto con la lancetta scassata ok e andiamo a prendere il 68, il pullman e ci vediamo non so dove, non so quando, ma ce li vedremo wow, è tutto libero vettici nel video cibo salutate ciao raga avete dei messaggi importanti iscrivetevi a Tony Gamer è ora che siamo scelti dal 68, sei strano? se ne sta andando si roada, tu il fratelli da cozza questa ce ne offro io va bene? va bene se offro io codice sconto cibo eh quando arriva il cameriere codice sconto cibo glielo dico eh assicurato quello ciao ciao ragazzi siamo qui con Staregio Parco, pizza dei cazzo 2016 fratelli la cozza iscrivetevi al canale di cibo grande oh ti è piaciuto questo? minchia se mi è piaciuto comunque sono le ore, che ore sono? dove ve lo dice? io entro le 9 no ma aspetteremo tanto aspetteremo tanto ragazzi per questa bellissima pizzata di classe si aspetta il muri e l'albanese di fiducia guardalo lì Wargamer fiero guardalo lì guardalo lì Wargamer non se vuol dire non sono Sebastián Gazzani qui si entra eh casino e bordello per tutti oh vieni anch'io ti do i like ciao a tutti allora iscrivetevi sul canale 150 euro 150 euro ci sta madonna quante belle ci sta? ci sta dove ci sederemo? si ci siamo presi alla postazione spero si veda bene speriamo pizza bismar purtroppo non si vede granché speriamo di migliorare un po' la luce in fase di editing comunque ragazzi siamo presi la pizza margherita e aspetteremo che arrivi tanto è arrivata la pepsi a tutti quanti ok è arrivata la pizza italiana la propolezza con la mozzarella ragazzi la mozzarella e le trezioni si lo sanno cos'era una mozzarella tutorial come mostrare una mozzarella ti hai dato a vedere quanti account femminili ti seguono e quanti maschili femminili siamo il 30% femminili? madonna quanta figa possiamo raggiungere il 40% ci impegniamo più vlog per tutti latin lover un bel esempio di pacman molto buona mozzarella a 10 per 10 gm si è finita infedere che non si finisce la pizza e la pizza è finita e ci vediamo domani con il continuo del vlog attenzione a te quanti like devo lasciare? 10 non si vede niente tanto non si vede niente morta in diretta ragazzi 20 like nuovo vlog notate questo divieto di accesso alla sede binari e poi guardate lui ragazzi vlog uccisioni in diretta ragazze frase del giorno e anche oggi non si mangia un cazzo ah è un bravissimo ragazzo lui cipo gianne a 2000 like cipo perde la virginità in diretta 10.000 li voglio tutti li voglio tutti 10.000 con un maschio pino su pino pino su pino su pino gg da gamanetta dopo dopo gg dai 68 no scomparso 68 devi passare alle 0009 tra le 0006 spaccim che sarà la buona volta che mi ammazzino ragazzi spaccim spaccim ho finalmente arrivato il suo 68 tre anni ad aspettare si arriva a casa e giustamente lui si prende il posto bravo ragazzi questa è la mattina dopo di quanto siamo andati in pizzeria ieri sera e ci siamo veramente spaccati a merda io ho bevuto anzi ho scroccato due cocktail da due miei amici in cui in uno c'era tipo la red bull e la vodka e tipo e quindi robe assurde sono le 11.29 del 10 giugno 2016 e direi che è l'ora di andare in palestra ad arrampicarmi sì perché per chi non lo sa io faccio arrampicata a torino in una palestra ed è molto divertente quindi direi di prepararci e andiamo subito lì tra l'altro mi sono dimenticato di dirvi che mi si sono rotte le cuffie già non faccio tanti video poi mi si sono pure rotte le cuffie e robe perché non so se vedete qua ma qua vedete non c'è niente e come potete vedere qua ci sono ancora i fili che escono fuori belli all'impazzata in questo momento sto utilizzando infatti queste cuffie scrause che però funzionano a momenti e a momenti nuovi speriamo veramente di riuscire ad editare questo video prima di prendere altre cuffie perché con quelle lì non ci riesco più a far nulla mi sa che dovrei creare un manuale tipo di sopravvivenza perché è d'obbligo comunque lo zaino è già pronto cioè c'è tipo i pantaloncini le scarpe che uso la maglietta e quindi siamo subito pronti per andare I didn't think we could fall in love broken from the start chained to our past we had closed hearts we are breaking free it's just you and me we might fall apart far on and west so far ok ragazzi sono sulla via per andare in palestra ad arrampicare è una via abbastanza dispersa questa qui per andare lì però dai è bella e carina anche per ascoltare la musica infatti scusate se sto indossando queste però capite è bella ascoltare la musica e sono sicuro che pure voi che avete queste cuffie lo fate sempre ciao motorino non mi ha salutato comunque è finita la scuola fa molto caldo vabbè dai siamo quasi arrivati ah togliamoci queste cuffie che fa pure caldo tra l'altro io porto pure questi cuffioni vabbè eccoci arrivati direi di rivederci a dopo allenamento finito di ritorno verso casa fa incredibilmente caldo peggio di prima e ho deciso di farmi appunto la doccia a casa perché la casa è sempre la casa ovviamente che basta con questo effetto d'alieno io io chi? Roberto vediamo un po' quanto ci metterà del resto ascensore c'è a casa mo ci facciamo la doccia mangiamo facciamo le varie cose soprattutto ci riposiamo e adesso devo ricaricare la fotocamera che praticamente scarica mannaggia a te sta batteria che dura poco però prima ah non mi alzerò mai più morirò di fame me lo sento uno vuole guardarsi la partita degli europei che tra l'altro sono appena iniziati sono le 9 e guardate qua non prende e siamo nel 2016 ragazzi nel 2016 volevo gustarmi gli europei con queste belle pringles product placement ragazzi compratele e non posso questo è un chiaro segno che il destino vuole farmi giocare alla play o a gta da sun's creed oh ha ripreso ha ripreso siamo al quarto minuto e 47 sono ancora sullo 0 a 0 purtroppo per motivi ovvi non posso farvi la telecronaca comunque questo vlog già dura 5 o 6 minuti ho già cominciato ad editare il vlog anzi l'ho finito devo aggiungerci solamente tipo qualche canzoncina e questo clip finale ovviamente e che dire ragazzi se questo video vi è piaciuto vi trascierebbe il pollicione su un commentone e tante bellissime cose negli altri giorni porterò anche gameplay si spera insieme ad altri compagnoli della compagnia e che dire da cipo e dalle pringles mozzarellone bye bye fabio z al prove ciao fabio rat atto Grazie a tutti.